Eccolo lì, guarda come l'ho... L'ho in... Guarda come l'ho... Siiii! Ma quanto sei diventato forte, Vez? Ah, beh... Le cose più stesse che sono scarsa... Un po' come te, Seba... No, io non sono così scarso... Bella, ma siamo fortissimi, vedi? Perché in realtà io mi sono allenato segretamente giorno e notte per riuscire a fare queste giocate... Eезbilo, sei stato fermo... Loro, cioè, non se l'aspettavano, allora era studiata questa tattica. Ma compiliamo sta roba, una pozza e via, via verso nuovi orizzonti. Se lì non sono scarsi in culo queste. Eh, me ne sono accorti. Beh, anche il nostro mid laner di avere un po' scarso, però... Fai qualcosa, fai qualcosa, fai qualcosa. Ma non devo dire per dire di fare qualcosa, avresti di essere giù, circa a essere... Ma io non so giocare. Cazzo, fa male si può affrontare. Mamma mia Diego, ma li stiamo arrasando questi? Eh sì eh. Meno male che ci sei tu come support, per me. Faccio queste giocate eh. Oh, finalmente ho la ulti. Vabbè. È finita eh. Eh, per noi. Addirittura, sai così, cattivo con te stesso Rocco. Guarda che se ti può consolare, si viene peggio di te come support. Oddio, possiamo parlarne. Eh, fico. No, no. Eccola, eccola. Ah, che l'hai insultata, adesso si infettisce eh. Cosa vuole quell'eso lì? Ma io prendo tutti oggetti con la passiva, perché la attiva non la uso, cioè non mi viene in mente di usarla. Poi non saprei neanche usarla. Già, già non usi l'abilità. Guarda che se si usi lo certo. Purtro putto. Ehi. Faccio una Wurto qua nel Drago. Mmm. Vieni, vieni, vieni. Lancivi una bolla se... Ah, niente, niente, niente. Eh, non ce l'avevo più. Eh, che falle. una bolla se ce la fai magari contendolo eh che mira ma è su twisted eccolo eccomi bravo sii mossa mossa no veramente bravo ma come all'attiva ma poldoleo ti mette le le lantanine ah peccato ah va va ecco non ti hanno fizzato oh ti curo zamb no sei morto si morti sono morto ok curami 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 ma culo era troppo grosso ah era troppo grosso sei domenico sabato sono domenico sabato questi due pischelletti dark ma mischi significa questi due pischelletti dark non ho ancora capito come non sai cos'è un pischelletto dark non lo so è uno che ascolta la dark polo gang ho visto l'ho visto curami curami arrivo su... eh non l'ho più, vacca boia quanto è stato tolto? quanti danni fa? eh guarda di stack, guarda quante ne ha oh se beh vuoi che lo attiro? no non serve cioè non posso neanche buttare, cioè andare dentro a un auto no non puoi, non puoi, non puoi, stai fermo infatti dai torri fa un culo misforti, fa un culo si, fai... guarda, vai qui si e adesso? aspetta no vai avanti, vai avanti uh, ci vedono guarda, ci vedono fermo vero pochi mi dicevo dai ti do una mano, no non ti serve proprio la mano dai partecipo anch'io a distruggere la torre, va dai ti tanco, vai io eh, fa male se uno lo so ma tu che hai Diego, chi è il tuo? lo saio la veglia vita per farlo no sta arrivando timo che strombolo, lasciami stare leso, ti ammazzo e via ma no, ma puoi andare di perché non sei tornato in base? ma perché ero a metà ed era arrivato il timo, lo strombolo ecco lontanto, però onesto io boh, tre per uno, Sabino non è molto, ma è un lavoro onesto però capisce eh, sono qua con Miss e io essendo un essere senza alcuna iniziativa sto facendo quello che fa lei eccolo, eccolo, eccolo vai 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 Miss vai che ti supporto dai, ti supporto ma c'è Pantheon lo ariamo Pantheon gli facciamo rimpiangere di essere nato a quel leso c'è Nasus aiutami Miss arriva Rocco arriva ragazzi vai vizio vai, io ti supporterò fino alla fine no no no, vai Sabino no si Seba vabbè niente grande Seba sei il migliore io ero con te oh anche qua il Corvo mi attacca oh vai via Corvo aiuto eh non più ecco che doll prendilo no prendilo adesso avete Rocco attacca qua eccomi 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 allora ho paura io resto nell'erba no ma quello è un pro player ma ma è leggendario non capisco non capisco sto twisted face ulta per vederci ma non ma non vi vede ma non ci vede ci vede ma non si teletrasporta è come te Seba non ci vede è il tf per te sto arrivando vabbè bella da Ah ma l'ho preso io Nasus Ops Dai finiamo che non c'è più voglia Ma li abbiamo arati? Ma siamo i più forti giocatori dell'universo Oh ma niente sarebbe successo senza Rockwell Eh chi è che ti fa un da support In questo modo così sublime Però mi sa che è la più bella partita che abbia mai fatto da quando gioco a LOL Il Sam proprio non posso vederlo E' proprio scarso Cioè io provo a rimanere lì Però fa schifo